Giovane padre di famiglia con diversi problemi di salute, tre figli, una moglie, ora rischia lo sfratto. E' la storia del signor Luigi Brigante, residente a Specchia. Nei mesi scorsi il comune gli ha recapitato un'ordinanza di sgombero dal suo appartamento in una palazzina di via Grassi. Un alloggio questo ottenuto nel 2010 in via temporanea e provvisoria e comunque non per oltre due anni. In questo arco di tempo però la sua salute è peggiorata. Soffre di paralisi spastica, di crisi epilettiche, ha dovuto combattere un tumore, ha una protesi del bacino a metà ginocchio e attualmente è in riabilitazione e si muove con un motorino elettrico. Come se non bastasse, anche i suoi figli più piccoli di 6 e 5 anni soffrono di displasia. Quindi sia per lui che per i suoi bambini è costretto a spostarsi più volte tra gli ospedali di Lecce e Bologna. Tanti problemi l'uno dopo l'altro che purtroppo gli hanno impedito di poter essere un inquilino corretto nei pagamenti. Oggi il suo debito è di 5.000 euro, una somma che sta dallo stesso primo cittadino per evitargli lo sfratto e quindi procedere con il rinnovo del contratto. Ma il signor Brigante non ha questi soldi e non può nemmeno lasciare il suo appartamento a causa dei problemi di salute suoi e dei suoi bambini. Anzi, dal suo stesso medico, attraverso il legale a cui si è rivolto, ha ottenuto una proroga scritta per evitare lo sfratto. Il comune però sembra continuare sulla sua idea. Soldi in cassa non ce ne sono e non possono essere coperti i debiti condominali. Luigi Brigante, difeso dall'avvocato Roberto Rizzo, è disperato. Non ha mai ricevuto nessun aiuto economico e si accontenta di vivere in un appartamento senza riscaldamento e senza tapparelle. L'umidità è tanta, si riscaldano grazie ad una stufa a gas. È una situazione già impossibile ed ora ci si mette anche lo sfratto. Il giovane padre chiede solo un tetto da assicurare ai suoi figli ed un po' di dignità.